Considerate utilizzare il codice Codingamer582 se comprerà il pass battaglia Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Codingamer582 e intanto vi sto facendo anche vedere un gameplay appunto del nuovo carro armato di com'è la stagione perchè alcuni appunto sono riusciti ad entrare ora io sono in coda quando voi state guardando questo video i server quando andranno online, i server andranno online ora a breve ve lo dirò, ma prima di iniziare volevo anche ricordare se volete giocare con me quando volete potete abbonarvi a 2,99€ quindi si avete capito bene, i server andranno online alle 14 come ora avete appunto ascoltato dicono che diciamo già ora si può entrare io appunto mi ripeto sono in coda ma chissà se riusciremo davvero a giocare per il momento visto che numero 1 è domenica numero 2 dicono che è la season più bella e quindi ragazzi ci sarà un bel po' di gente supportatemi con il codice Codingamer582 e shoppate il pass e ciao ragazzi, abbonatevi se volete